dunque come prima cosa dobbiamo finire il lavoro che abbiamo lasciato in sospeso lunedì sulla implementazione del simulatore per il nostro noleggio auto ok allora avevamo predisposto diciamo così la classe simulatore con le con le variabili principali per la gestione dello stato eravamo arrivati a dire che mancavano due metodi principali uno per predisporre l'inizio della simulazione e l'altro per farla partire ed eseguirla che poi potrebbero volendo essere messi in un metodo solo ma diciamo così concettualmente li teniamo separati e poi avevamo la classe evento che in realtà conteneva che conteneva poca informazione l'informazione chiara ovviamente è il tempo simulato e il tipo di evento che era uno di questi due ok allora l'inizializzazione significa predisporre uno o più eventi nella coda degli eventi che facciano lavorare il simulatore stesso se io facessi partire questo simulatore la prima cosa che deve fare il simulatore è estrarre il prossimo evento in coda e se la coda è vuota come lo è attualmente perché il costruttore me la costruisce vuota non fa nulla e quindi rimane fermo quindi io devo avere un meccanismo per cui dall'esterno arrivino degli eventi nella coda poi dipende dai casi ci sono alcuni tipi di simulazione in cui un evento ne alimenta un altro nuovo quindi magari basta un evento solo iniziale come seme e poi il simulatore va avanti oppure servono più eventi diciamo così esogeni che arrivano che arrivano indipendentemente dalla volontà del simulatore stesso nel nostro caso sono i clienti che arrivano uno ogni dieci minuti ogni team minuti allora quello che possiamo fare è inserire nella coda degli eventi l'arrivo di tanti clienti immaginiamo che il servizio sia aperto magari per otto ore e quindi aggiungiamo un cliente ogni dieci minuti per le otto ore di apertura del servizio e mettiamo nella coda poiché la coda prioritaria lavora sul tempo noi non abbiamo bisogno di inserirli uno per volta cioè quello le otto lo inserisco adesso ma prima di inserire quello delle 9 o quello delle dieci aspetto che il simulatore arrivi a simulare le 9 o il 9 30 io metto tutto dentro e poi il simulatore comunque simulerà eventualmente prima altri eventi che avvengano prima dell'arrivo del cliente del pomeriggio quindi io potrei dire che visto che il mio tempo di arrivo è un numero intero potrei avere un ciclo in cui dico guarda partiamo da time uguale 0 poi incremento time non di 1 ma di team finché time sia minore di un tempo massimo che se facciamo l'esempio di un appunto attività che rimane aperta per otto ore sono 8 per 60 minuti quindi ovviamente ci saranno tanti clienti che arrivano tanti più clienti che arrivano quanto è più corto è il tempo d'intervallo invece è più se è un team più alto nelle otto ore arriveranno meno clienti io qua non so quanti non mi sono fatto il conto di quanti clienti arrivino semplicemente ho simulato gli istanti di tempo in cui presumo che arrivino questo è un modello deterministico ne arriva uno ogni dieci minuti magari in un altro caso farei un modello probabilistico in cui il tempo di arrivo è una distribuzione poissoniana che decade col procedere del tempo non importa dipende qual è il mio modello di arrivo e ogni volta e per ogni a ogni interazione di questo ciclo for simulo che a quel tempo lì arrivi un nuovo cliente cioè come faccio a dirlo il simulatore metto nella coda l'evento che descrive l'arrivo del cliente quindi dirò this.queue.add aggiungiamo nella coda un nuovo evento e l'evento di che tipo è? Allora il costruttore di evento ha due parametri il primo è il tempo e il secondo è il tipo di evento il tempo è il time che ho simulato quindi il primo sarà il tempo 0 poi sarà 10 poi 20 poi 30 e così via misurato in minuti il secondo parametro è il tipo di evento che voglio generare poi qui visto che lui si aspetta già un parametro tipo di event type se io faccio il controllo spazio per autocompletamento già mi suggerisce quali sono le costanti che descrivono i tipi di eventi previsti in questo caso nuovo cliente quindi sto creando un nuovo evento a quell'istante di tempo di quella tipologia e lo butto in coda adesso io questi eventi li sto creando in ordine crescente di tempo quindi andranno a finire in coda in ordine ma se anche li creassi in ordine misto di tempo la coda prioritaria mi farebbe estrarre comunque in ordine di tempo basta sono pronto nel senso che a questo punto il simulatore è pronto ha tutte le auto in garage le ho messe tutte in garage e ha la previsione dei clienti che arrivano allora possiamo cominciare a simulare la simulazione cosa fa? va a chiedere alla coda degli eventi dimmi qual è il prossimo evento da simulare se ce ne sono ancora e esegui le azioni opportune in funzione del tipo di evento quindi potrebbe essere un while this.q.is empty anzi not is empty finché c'è roba in coda ok? e adesso di roba ce n'è perché l'ho messa sotto nell'interizzazione poi man mano la toglierò dalla coda ma in realtà ne aggiungerò anche altro quindi vedo un attimo quando la coda è vuota non posso fare altro che fermarmi so che da quell'istante di tempo in poi fino al tempo infinito non succederà mai più nulla di simulato e allora vado a estrarre l'evento che è chiamiamolo e che devo elaborare come prossimo evento this.q.remove riceve e remove oppure poll cosa che differenza c'era? è la stessa solo che ritorna nullo se la coda è vuota è uguale tanto sappiamo che la coda non è vuota quindi remove e poll si comportano allo stesso modo poll mi fa meno paura come nome l'importante è un metodo che legge il valore mi restituisce il valore e poi lo toglie dalla coda e toglie sempre e mi restituisce sempre il primo per priorità la mia priorità l'ho impostata ricordiamocelo quando ho definito il comparatore della classe evento che è la classe su cui è costruita la priority queue che va a confrontare il campo time quindi quello con priorità più alta vuol dire quello con tempo più basso se ce ne fossero due con lo stesso tempo pari merito vabbè ne estrae uno dei due in modo arbitrario non c'è non ci interessa andare a distinguere ok adesso io ho estratto un evento questo evento avviene a un certo istante di tempo magari possiamo chiamarlo time estraiamolo solo per comodità le prime volte almeno estraiamo il tempo e estraiamo il tipo event type type uguale e punto get type e poi cosa devo fare? devo fare cose diverse a seconda del tipo di evento se l'evento è di tipo arriva un nuovo cliente faccio certe cose altrimenti ne faccio altre questo lo posso mettere ad esempio in un'istituzione tipo switch a seconda del tipo faccio cose diverse case nuovo cliente break case restituzione auto break purtroppo dentro un'istituzione switch per ragioni storiche i vari blocchi non sono delimitati da parentesi graffe ma da case break ricordiamo che se mi dimentico scrivere un break il codice quindi nel caso di un nuovo cliente esegui questo codice e poi vai a eseguire quello sotto quindi break mi fa oppure anziché fare uno switch case posso fare una serie di if per carità oppure potrei fare vabbè delle sottoclassi di evento ma non complichiamoci la vita e quindi qua dentro ci metto il codice di ciò che devo fare quando arriva un nuovo cliente cosa devo fare? quali sono le domande a cui devo rispondere? uno capire cosa succede due aggiornare lo stato del mondo compresi gli indicatori in uscita tre aggiornare la coda degli eventi allora che cosa succede quando arriva un nuovo cliente? che ho due casi o lo devo mandare via insoddisfatto oppure gli posso affittare un'auto e questo sulla base di che cosa lo decido? lo decido sulla base del numero di auto ancora disponibile quindi se il numero di auto è maggiore di zero allora ok affitto auto altrimenti no cliente insoddisfatto allora nel caso del cliente insoddisfatto cosa devo fare? partiamo da questa che è più facile eh niente non faccio niente ma tengo traccia di ciò che è successo quindi devo incrementare il numero di clienti totali e anche il numero di clienti insoddisfatti e poi passo all'evento successivo arriverà un altro cliente oppure ritornerà un'auto oppure se invece effettivamente riesco ad affittare l'auto a un cliente aggiorno lo stato del mondo cosa succede quando affitto l'auto? beh succede due cose uno che ho servito un cliente in più e non è insoddisfatto quindi lo posso contare tra il numero di clienti totali ma sicuramente non incremento gli insoddisfatti e poi però devo ricordarmi che a questo punto ho un'auto in meno in garage quindi avrò n auto che si decrementa quindi se noi osserviamo le variabili dello stato del mondo un attimo prima e un attimo dopo l'arrivo di un cliente vediamo che sono cambiate sono cambiate in conseguenza del fatto che il cliente è arrivato e gli ho affittato un'auto e poi e poi quando io ho affitto un'auto questa azione ha delle conseguenze cioè il fatto che quest'auto verrà riconsegnata nel futuro tra un intervallo di tempo che in realtà non conosco bene perché ho un modello chiamiamolo stocastico dei tempi di consegna quindi io posso calcolarmi la durata di questo noleggio moltiplicando il tempo di viaggio per un numero casuale che va da 1 al numero massimo di ore in cui l'auto può star fuori quindi dovrebbe essere dunque mat.random giusto? mat.random mi dà un valore casuale tra 0 e 1 io lo moltiplico di sommo 1 e lo moltiplico per il numero massimo di ore moltiplicatore di travel e tutto ciò lo converto in intero speriamo di averla scritta giusta cioè ciò che sto facendo è mat.random mi dà un numero tra 0 e 1 lo moltiplico per 3 perché questa costante è 3 mi dà un numero tra 0 e 3 un numero reale tra 0 compreso e 3 escluso ok? ci sommo 1 e quindi avrò un numero reale tra 1 compreso e 4 escluso uniforme con uguale probabilità parte intera tronco i decimali e quindi se ho un numero tra 1 e 4 1 compreso e 4 escluso prendendo la parte intera avrò 1, 2 o 3 perché 4 essendo escluso non mi capiterà mai questo è il numero di ore per cui diciamo di un multiplo dell'unità di tempo per cui sta fuori moltiplicato per la durata dell'unità di tempo questo mi dovrebbe dare la durata totale in minuti del noleggio di questa specifica auto a questo punto sapendo qual è la durata del noleggio posso prevedere il ritorno dell'auto a una certa ora quest'auto ritornerà non succede adesso quindi non posso fare nulla adesso relativamente al ritorno dell'auto ma posso schedulare nella coda degli eventi che questo succederà in futuro quindi this.queue.add new event due parametri il tempo a che ora ritornerà all'ora attuale più la durata del noleggio e di che tipo è restituzione auto quindi aggiungo un evento che si verifica in un futuro il futuro pari alla qui devo metterci l'istante di tempo in cui si verifica l'istante attuale più la durata del noleggio mi darà un certo numero di minuti avverrà una restituzione dell'auto quindi nell'elaborare l'evento ho fatto tre cose ho capito cosa succede in questo caso ci sono due varianti ho aggiornato lo stato del mondo e gli indicatori in uscita e ho aggiornato la cosa degli eventi con le conseguenze eventualmente di ciò che ho fatto dell'azione che ho compiuto conseguenze eventualmente perché nell'altro caso non ci sono conseguenze simulate magari ci saranno nel mondo reale ma nel mio modellino il cliente se ne va e finisce lì la storia e questo se arriva un nuovo cliente l'altro tipo di evento è quello invece in cui mi istituziono un'auto allora in questo caso è più semplice perché quando mi istituziono l'auto devo semplicemente prendere atto che quest'auto mi è arrivata in garage e quindi avrò un'auto in più rispetto a prima devo modificare il numero di clienti che sono insoddisfatti no li ho già contati quando gli ho affittato l'auto devo creare nuovi eventi per il futuro no oramai questo nello legge è finito non mi serve altro in questo caso è semplice dimmi se abbiamo una restituzione auto e avendo una restituzione auto e avendo una modificazione che hanno lo stesso tempo non possiamo prevedere in che ordine gli metteranno se prenderanno prima la restituzione quindi lui dice io ho un cliente che mi arriva esattamente le 15.00 e guarda caso le 15.00 un altro cliente mi restituisce un'auto quale dei due verrà estratto prima dalla coda non lo posso dire perché sono a pari merito in un certo senso no vorrà dire che a volte simulerò che quell'auto appena arrivata viene riaffittata a volte invece simulerò che l'auto non è presente ci sta anche perché la durata stessa del noleggio era casuale quindi è un margine di incertezza che ripetendo più volte la simulazione in qualche modo si va a sfumare a compensare e qua direi che abbiamo finito a questo punto possiamo questa classe simulatore provare a usarla noi avevamo già il test del simulatore che usa il simulatore stesso in questo caso è molto molto semplice allora abbiamo detto creiamo una nuova un'istanza di simulatore col suo costruttore e il costruttore ha bisogno di una certa serie di parametri il primo è il numero di auto che ne so facciamo vedere 5 auto tempo di arrivo 10 minuti durata l'unità di tempo e la durata del viaggio era un'ora e il numero massimo di unità di tempo erano 3 questi sono i parametri che erano scritti sulle slide sul testo dell'esercizio i valori di partenza poi initialize il simulatore run il simulatore lo creo si inizia le variabili initialize si prepara gli eventi iniziali in questo caso non ho parametri ecco se vogliamo ad esempio il valore 10 che è il tempo d'arrivo qui l'ho dato nel costruttore l'avrei potuto prevedere come parametro di initialize perché in realtà mi serve solamente qui però non c'è una legge che ti dice dove devi fornire un certo valore e poi run fa parte della simulazione al termine del run sappiamo che la coda è vuota e possiamo interrogare il simulatore sui valori calcolati quindi potrò dire system punto out punto print line clienti totali due punti che sono sim punto get totale clienti e clienti insoddisfatti sim punto get totale insoddisfatti in teoria pensiamo che se eseguiamo queste funzioni vediamo se è vero facciamo run del test simulatore e mi dice che su 48 clienti 28 sono insoddisfatti che è un bel numerone grande un po' troppo forse se io rieseguo la simulazione il numero di clienti totali è sempre 48 è perché sono 8 ore e 6 clienti all'ora uno in 10 minuti 6 per 8 fa sempre 48 ma il numero di insoddisfatti può variare un pochino sulla in funzione della durata del noleggio se sono fortunato che avrò tanti noleggi brevi avrò meno clienti insoddisfatti però se voglio fare un lavoro migliore magari aumento il numero di auto via mettiamo 10 auto anziché 5 e vediamo che i clienti insoddisfatti calano si dimezzano o giù di lì se avessi 15 auto è chiaro che è un costo però qua scatta il gestionale che sta dentro di voi mi costa di più acquistare un'auto in più o perdere troppi clienti 15 addirittura mi sembra quasi troppo nel senso che mi dà la quasi certezza di avere un auto vedete che ogni tanto salta fuori un 1 però ogni tanto salta fuori un 1 quindi le simulazioni soprattutto se hanno una componente stocastica vanno ripetute più volte per avere un'idea di quella la variabilità degli output e questi sono dei numeri che saltano fuori se volessimo rimettiamo 10 che dà un po' più di soddisfazione perché cambiano dei valori per capire cosa succede proviamo ad aggiungere una print dentro il simulatore dentro il run stampiamo cosa succede qua mettiamo tipo di evento al tempo e stampiamo anche il valore del tempo qui qui mi fa praticamente la storia di ciò che succede e mi dice nuovo cliente a tempo 0 nuovo cliente a tempo 10 eccetera eccetera al tempo 80 qui sono arrivati 1,2,3,4,5,6,7,8 9 clienti io avevo 10 auto e quindi ce l'ho fatta mi ritorna un'auto al tempo 80 e quindi posso affittare l'auto qua quest'altra questo cliente probabilmente sarà insoddisfatto quello del 110 non ho messo una stampa per dire soddisfatto insoddisfatto però auto restituita al tempo 120 chiaramente i nuovi clienti arrivano 1,10 minuti così come abbiamo impostato il ritorno delle auto ci sono alcune ore in cui è più denso alcune ore in cui invece ci sono dei buchi perché chiaramente dipende dalla durata del noleggio e quindi il simulatore adesso qui non abbiamo traccia di quale auto viene restituita sappiamo che rientra un'auto però può benissimo capitare che un'auto che è uscita dopo rientri prima ma questo lo mette in ordine la coda degli eventi tranquillamente gli eventi che escono vedete che sono rigorosamente in senso crescente di tempo qui noi quando buttiamo dentro la coda diciamo beh succederà e ci pensa lui a farlo comparire a obbligarmi a elaborarlo a processarlo solamente quando arriverà il tempo simulato e il tempo va a scatti al tempo 485 non succede nulla come dicevamo il tempo è discreto avviene solamente in corrispondenza degli eventi che decidiamo di simulare ok questo chiaramente è un caso semplice perché abbiamo un'unica variabile di stato che è questa che l'intero sistema è riassunto dall'informazione di quante auto disponibili e quindi la sua evoluzione è di questo tipo è relativamente semplice a volte anzi quasi sempre tutto questo codice qui che non è un codice difficile però bisogna fare attenzione a considerare tutti i vari casi spesso magari non lo mettiamo nel metodo run facciamo una procedura a parte un metodo privato qualcosa del genere in cui andare a scrivere in modo più ordinato più isolato tutto questo codice quindi volendo ma si complica il codice si complica la struttura del programma uno potrebbe dire ma perché fai uno switch sul tipo di evento beh anziché avere una classe unica evento fai una interfaccia evento e due sottoclassi due classi che la implementano e così ogni classe gestisce il tipo di evento che le compete questo è più pulito dal punto di vista della programmazione oggetti evita gli switch e gli if perché ogni crea un evento di tipo arriva a un'auto quindi nuovo cliente event e l'altro sarà auto restituita event che sono tutte due sottoclassi di una classe generica event e ognuna sa come gestire il proprio evento questo si potrebbe anche fare sarebbe più pulito dal punto di vista della programmazione oggetti il problema è che queste sottoclassi per poter fare il loro lavoro dovrebbero avere accesso a tutte queste variabili qua e quindi in qualche modo devo prendere tutto lo stato del sistema mettere in un'altra classe non dentro il simulatore e dare riferimento a quella classe quindi complica un pochino di più se il simulatore diventa complesso vale la pena chiaramente spittare la classe simulatore della classe stato del mondo dalle classi evento per problemi più semplici ci semplifichiamo la vita diciamo così mantenendo tutto all'interno di una classe sola vi quadra? allora se vi quadra passiamo a un esercizio un pochino più impegnativo taglio la registrazione qua così è più comodo anche seguirla grazie a tutti